Ciao a tutti sono Paolo Lanfranco il preparatore di Paola Gianotti e siamo qui oggi per fare un test incrementale di potenza per avere una base di partenza per i suoi allenamenti. Paola si sta preparando per la sua prossima avventura e noi siamo pronti e lei anche. Quality Training! Grazie a tutti! Grazie a tutti!